Illustrato il nuovo piano regionale trienale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, un piano che ha diverse novità e che prevede alcune linee più importanti che partono dall'osservazione analitica dell'ultimo periodo. L'ultimo piano era del 2011, studiata la parte climatica, la vegetazione, le pendenze e le esposizioni, fattori che danno una restituzione differente sulla pericolosità sulla quale si va poi a lavorare. Per la previsione ci sarà anche un nuovo bollettino regionale, assieme alla situazione del Dipartimento Nazionale rappresentata attraverso i satelliti e al sistema europeo, unito a indici che sono nati proprio all'Aquila con il lavoro di un ingegnere, si andrà a restituire un bollettino del rischio con dettaglio anche a livello comunale. Per quanto riguarda la lotta attiva ci sono diverse novità, c'è una nuova disposizione nella sala operativa unificata permanente e ci sono anche due elicotteri regionali che a breve, già da domani, saranno in servizio in maniera dinamica in base agli indici di rischio. L'appalto è trennale, si potrà intervenire con maggiore velocità e programmazione. Abbiamo un nuovo piano antincendio triennale, anche molto dettagliato, che va ovviamente a dettagliare alcuni aspetti fondamentali della previsione soprattutto e della prevenzione. Quindi significa anche programmazione di risorse che poi serviranno per individuare le aree di maggior pericolo e mettere in campo anche attività di prevenzione strutturale, quindi pulizia dei boschi, via di tagliafuoco eccetera. Per quanto riguarda la campagna AIBA, antincendio boschivo, è operativa dal 10 luglio sino al 17 settembre. Ci sono davvero tantissimi mezzi immessi in campo. 40 organizzazioni di volontariato, due elicotteri, 70 mezzi regionali con moduli antincendio, 80 veicoli delle associazioni, 3 moduli elitrasportabili e 1.200 operatori antincendio in totale formati. I dati sono molto interessanti e li ha snocciolati il presidente della regione, Marco Marsilio. Abbiamo registrato in un decennio che c'è una sorta di andamento ciclico degli incendi. Ogni 4-5 anni c'è un picco importante. C'è stato nel 2012, nel 2017 e nel 2021. Quello che registriamo però è che mentre nel 2012 e nel 2017 c'è stato praticamente lo stesso livello di numero di incendi e di superfici colpite con una leggerissima diminuzione, nel 2021 questa diminuzione è stata molto sensibile, quasi dimezzato. È il frutto di un lavoro intenso di acquisto di mezzi, di maggiore sorveglianza, di preparazione di personale specializzato più diffuso sul territorio. La diffusione sul territorio io credo sia l'arma vincente per combattere gli incendi perché un incendio che viene presto individuato e presto affrontato è un incendio che si può spegnere con relativa fatica, ma soprattutto impedendo appunto di creare troppi danni e di estendere superfici che poi diventano ingovernabili.